Si profila un incontro molto interessante quello in programma per la decima giornata della B2 femminile di volley il sabato 9 dicembre al Palasport Nando Di Leo di Cerignola che vedrà protagonista la quarta forza del campionato, la pallavolo Cerignola e la vici capolista del torneo, la Oplonti Napoli. Le fucsia allenate da Francesco Scarvi dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Intec Benevento in trasferta con un severo 3-0 e lasciandosi alle spalle due sconfitte al tie-break ricevono l'Oplonti Napoli, formazione campana che fino a questo momento ha un buon rullino di marcia. E di fatto è una delle squadre accreditate per il salto al campionato di serie B1 nazionale insieme alla Starvolley e che vanta giocatrici del calibro di Esposito, Campolo e Buico. La classifica parla chiaro, secondo posto in classifica 22 punti all'attivo con 7 vittorie e 2 sconfitte, 23-7 vinti e 7 persi. Per quanto riguarda invece le pantere fucsia padroni di casa 18 punti all'attivo, 5 vittorie, 4 sconfitte, 28-7 fatti e 14 persi. Non mancano dunque i motivi di interesse per una sfida che si poi annuncia ricca di belle emozioni e con la speranza di tornare alla vittoria anche in casa.